Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Partiamo dal livello europeo con la mappa delle alte e basse pressioni. Possiamo vedere una zona di bassa pressione qui sulla Spagna che inviera ancora infiltrazioni di aria molto umida sull'Italia a disturbare l'anticiclone. Più a nord possiamo notare invece quei colori bianchi le nevicate fino in pianura tra Germania, Polonia, paesi baltici e l'aria gelida che da domenica interesserà tutte le nostre regioni con un drastico calo delle temperature. La mappa della nuvolosità, nubi irregolari sull'Italia, ancora infiltrazioni di aria molto umida da sud a sud ovest. Successiva immagine possiamo notare però le piogge quasi esclusivamente sulla Liguria. Più sole al sud, tra l'altro qui lo scirocco inizierà a soffiare con massime fino a 20 gradi. Seguite tutti gli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo sul nostro sito web.